Buongiorno, mi chiamo Stefano Tura, sono Senior Product Manager per la Visual BU di Panasonic in Italia. Siamo oggi qui ospiti di Adeo Group per una presentazione che in realtà è legata molto al mondo audio, ma ci hanno invitato per poter presentare anche le nostre soluzioni video alla loro platea di installatori e rivenditori. Le rivenditori che andiamo a presentare è più che altro una panoramica sulla gamma di prodotti, quindi sia tutto ciò che offre Panasonic, nella nuova riorganizzazione che Panasonic ha effettuato, in una nuova divisione che si chiama PSCEU, che sta per Panasonic System Communication Europe, sono inclusi prodotti che vanno dalla videoconferenza ai sistemi VoIP per centraline telefoniche, fino alle lavagne interattive, proiettori, display, computer per applicazioni RAG e telecamere broadcast. Quindi è una famiglia di prodotti molto ampia che permette di avere sia la qualità videotipica di Panasonic, ma per una volta anche un interlocutore unico per chi avesse bisogno di affacciarsi con realtà aziendali di un certo tipo, di una certa dimensione, quindi avesse necessità di interagire con diverse divisioni di prodotto. Lo scopo di Panasonic è quello di poter offrire un'unica interfaccia che permetta di scegliere i prodotti più corretti per realizzare le varie soluzioni. In particolare per quanto riguarda i prodotti di cui abbiamo parlato qui presso la presentazione di Adeo, abbiamo fatto un cenno sui sistemi di videoconferenza. Panasonic è un sistema di videoconferenza che si contraddistingue per un'alta qualità video, lo scopo è quello di avere immagini di alta qualità e questo lo otteniamo attraverso un codec H.264 nella trasmissione dei dati video e ad una telecamera di ripresa di fascia broadcast che viene appinata al sistema di videoconferenza, quindi per avere immagini full HD in alta qualità. E poi una panoramica su display e sistemi di videoproiezione che vanno appunto nella campo display dai 42 pollici fino ai 152 pollici sia con tecnologia LCD che con tecnologia plasma per passare poi alla videoproiezione che offre nella gamma di prodotti che andiamo a distribuire con Adeo tutta la gamma di prodotti LCD che si è ampliata di gamma di prodotti in maniera molto importante con l'acquisizione di Sagno da parte di Panasonic. Di conseguenza i prodotti che il mercato conosceva storicamente come proiettori Sagno, la Panasonic ha acquisito Sagno e di conseguenza può beneficiare ovviamente della conoscenza e dell'esperienza Sagno in questa tecnologia andando ad integrarla con le competenze che Panasonic ha sviluppato nel campo del video per la gestione delle immagini a 360 gradi, quindi dalla ripresa alla visualizzazione per quanto riguarda le camere, display e videoproiettori. La gamma e le cose da dire sarebbero molte, diciamo in questo caso è stata proprio una presentazione per dare una panoramica di prodotto e poi saranno altre occasioni per parlare in maniera più approfondita delle singole famiglie di prodotto e entra nel dettaglio di diversi prodotti che abbiamo a listino.